Questa campagna sarà sicuramente accolta in modo favorevole perché rappresenta un unicum nel panorama delle reti di distribuzione e di consulenza finanziaria. Dietro al modello di Banca WeDeep e dietro a tanta efficienza delle persone vere che lavorano con entusiasmo e qualità. Crediamo nel nostro lavoro. Siamo noi pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La consulenza di WeDeep è unica perché si basa sulla centralità del ruolo del promotore e sull'assenza del conflitto di interesse. È l'unica in Italia che certifica sia la tecnologia che il consulente finanziario. Ci interessiamo dei bisogni dei nostri clienti, far comprendere loro che i soldi servono per realizzare i loro sogni, i loro progetti di vita. Il nostro ruolo di consulenti finanziari è anche quello di accompagnare ed educare il cliente. L'educazione finanziaria WeDeep è fondamentale. Consiste nel portare i nostri clienti finalmente a prendere coscienza dei loro reali obiettivi di investimento e si possono perseguire finalmente in maniera molto, molto più efficiente. We are advisors. We are advisors. We are advisors. We are advisors. Vi are advisors. Grazie a tutti